Le misure che riguardano la scuola decise dal governo negli ultimi mesi sono numerose, tanto che adesso la ministra Lucia Zorina sostiene che le risorse stanziate sono consistenti, più o meno 4 miliardi. Non è ancora ben chiaro come si arrivi a questa cifra, ma certamente con i provvedimenti adottati a partire dal decreto Cura Italia di marzo soldi ne sono stati stanziati. Proprio con quel decreto legge, il numero 18 del 17 marzo, erano stati messi a disposizione delle scuole 85 milioni per implementare la didattica a distanza, 70 erano destinati all'acquisto di strumenti per gli studenti meno abbienti, altri 9 milioni erano previsti per assumere mille assistenti tecnici per le scuole primarie e dell'infanzia e 43 milioni per consentire alle scuole di dotarsi di materiali di pulizia per la sanificazione dei locali. Successivamente, con il piano digitale nazionale, sono stati previsti 400 milioni per estendere la banda larga in aree ancora non servite del servizio. A metà maggio, con il decreto rilancio, sono arrivati altri 331 milioni di euro che le scuole statali possono utilizzare già da subito per iniziare a organizzarsi per la ripresa di settembre. Per gli stessi scopi ci sono 135 milioni per le scuole paritarie, senza trascurare i 39 milioni per lo svolgimento degli esami di Stato in sicurezza e i 15 milioni per il sistema integrato per la fascia di età 0,6 anni. Nel frattempo, il Ministero dell'Istruzione è riuscito anche a mettere in circolo risorse non disprezzabili destinate all'edilizia. Risorse, però va detto, che derivano da finanziamenti di vecchie disposizioni di legge risalenti agli anni passati. A conti fatti si tratta complessivamente di 800 milioni già stanziati dall'inizio del 2020, destinati a 1.750 interventi e a 5.560 indagini diagnostiche su solai e controsoffitti. Ed è in arrivo anche l'assegnazione di ulteriori 320 milioni già ripartiti tra le regioni e 855 milioni destinati alle province e alle città metropolitane per interventi sulle scuole secondarie di secondo grado. Qualche altro pacchetto di soldi potrebbe arrivare se si approvassero alcuni emendamenti al decreto rilancio che ha iniziato il proprio iter parlamentare proprio in questi giorni. Lo sforzo è certamente apprezzabile ma purtroppo appare del tutto inadeguato rispetto a quanto sarebbe necessario per poter riaprire tranquillamente le scuole a settembre. Le esigenze sono tante, tantissime. Si va da un incremento consistente degli organici sia dei docenti sia del personale atta fino al rinnovo o all'incremento degli arredi scolastici per non parlare poi dell'adeguamento degli spazi scolastici. Ma soprattutto in questa fase a noi sembra che manchi un piano organico basato su una visione chiara di come organizzare il fare scuola a partire da settembre. Ovviamente più insegnanti e più spazi sono essenziali, fondamentali, ma forse non bastano perché a scuola va certamente garantita la massima sicurezza possibile, ma anche un ambiente adatto all'apprendimento e alla vita sociale. Vedremo se nelle prossime ore il comitato dei 18 esperti costituito presso il ministero e coordinato dal professor Patrizio Bianchi fornirà qualche indicazione utile per le scuole e vedremo soprattutto se queste indicazioni saranno praticabili concretamente. Ovviamente su questo tema noi continueremo a tenervi aggiornati, quindi seguiteci su questo canale ma anche sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it. continuate a leggerci ma soprattutto a scriverci, mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come al solito.